Sì, il problema è che devo girarla, come cazzo la levo? Bello, apro e c'è il cartone, bella sta figura, ora è calda, sta aperta, allora, ok, sta bello, si vede no? Vai che la rompe, no, in teoria dovrei girarla anche perché questa è il sotto, sì, devo girare, no ragazzi fa un casino qua, no ragazzi fa un casino sicuro, 100-100, fa un danno che mezzo basta ragazzi, io fa un danno che mezzo basta, io ve lo dico, fa un danno bravo rosso, io ve lo dico, non ce la può arrezzare da solo, ragazzi, qui si fa casino, qui si fa casino. Tutorial, come spaccare 1.600 euro Non ce la può alzarla, sta cosa è assurda, impossibile alzarla, ragazzi. Aspetta, non ce la può alzarla, aspetta, non ce la può alzarla, ecco qua, impossibile alzarla, pacca 2. Aspetta, non ce la può alzarla, ecco qua, non ce la può alzarla, ecco qua, ok. Oh, mio Dio, raga, impossibile. Oh, ok. Oh, Dio. Oh. Direi che l'è un po' grande. Direi che l'è un po' grande. Oddio. Seccate la resina rito, io invece seccate, ragazzi, bestibio come se non ci fosse un domani. Allora, qui è fatto. Poi andiamo sulla parte superiore, perché abbiamo, dov'è il foglio dell'istruzione? Allora, abbiamo, eccolo qua. Allora, il mio Guts, suppongo tu stai qua. Oh, Guts per il follo. Suppongo che non stiamo così. Scusi un attimo, eh. Ok, va meglio. Ok. Bravo, Guts. Così si fa, Z. Bravissimo. No, la scatola Reggio, scatola Reggio. Bello Zod. Oddio, raga, questa è pelliccia vera. C'è la pelliccia vera addosso, questa. Ehi, fermo lì, eh. Fermo lì. Andiamo, il cosetto da mettere... Che è qui. Cioè, guardate che pezzettini piccoli fanno. Che è della spada. Ma che cazzo sta qui? Ma che cazzo sta? Sì, capite? Allora, mi ci sta. No, ok. Ma la vedete, ragazzi? O la avvicino? La vedete? La avvicino, dai. Per più di così non posso andare. Si vede bene, no? Si vede bene. Perfetto. Abbiamo anche una palla luce oggi, abbiamo. Ok. Poi abbiamo da mettere tutte le spadine. Questo cos'è? Avete il pugnale? Abbiamo. Quale spada ci devo mettere, madonna ragazzi? Sono 40 spade diverse. Io come cazzo si fa qua sotto? Però non ci impida. Forse è così? No, qui? No, non va bene questa. Va bene qui. Non va bene mai qui. No, ragazzi, questo è in prima. Sapete come si fa? Alla vecchia tutorial su YouTube e si gode. Porco. Vogliono visitare quanto dovrebbe segnare, eh? Oh, come? E tu, ho trovato. Ho trovato il tutorial. Se non ce la fai, le sabbe gifti te. Ci sto. Questa va bene qui? Sono un mitico campione. Con il tutorial vale come? Chi ha deciso che non vale? Fammi capire. Tanto tranquillo. Ci ho botto anche con il tutorial io. Non è che è andato. Tranquillo, Melle. Ci ho botto anche con quello io. Qui. Ok. Quale è? Falla a vedere però. Ma perché la devi mettere veloce? Ma Dio, vuole lasciare pure anche per il tutorial. Quale cazzo, eh? Quindi. Qui. Oh, vedi che si trova il punto. Vedi che si trova il punto. Oh, ma questa. Oh, fermo lì, eh. L'ho sbagliato a mettere. No. La cazzo. Questa. Andava qui davvero. Ok. Qua. Qua. Qua seppure ti ha messo solo due spalle. Eh, senta me, poi venite a mettere. Me va bene, eh. Guardo. Ma cosa, ragazzi? E le fate su di più di più. Mi sta pensando mettere quelle rosse. Mi sta pensando mettere quelle grandi. Mi sta fortemente il pensiero. Ok. Va bene. Ok. Next. Se arrivo lì, poi, mi porta a casa la resina. Certo. Dicono tutti così. Quando sono clown. Ma ho sbagliato a mettere la questa. Vedi? Vedi? Vedi, questa va di qua. Ma dove il cazzo? Ma dove il cazzo? Ah, vedi qua. Vini, triccatenaccio. No, ragazzi, è impossibile. Questo è impossibile. Oh. Sono un grano del male, ragazzi. Poi, infine, abbiamo la testa. Va bello. Va bello. E poi, vedrò le spade. Le spade che sono di qua. Bello, cara. Fonda, ragazzi. C'è quella di... Cioè, ma del lavoro l'è questa? Le gossa quanto me. Così, ok? Dovrebbe essere così. Dovrebbe essere così. Ok. 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 Ta-da! e che abbastanza grande ora burtano che è peppo mancano 8 minuti 10 sab grazie peppo ti hai detto montalo a 10 minuti non hai detto quel tutorial o meno quindi il cavillo funziona sempre gli fai decisato forse vai vai beppo vai vai beppo vai vai beppo vai adesso devo solo rimettere a questo indicato ok ok e poi io non vedo i 10 sab ora facciamo una cosa metto a posto ogni cosa è impossibile girarla volete vederla al contrario volete vederla al contrario ah per vedere i soldi dice a posto ogni cosa non vedo i 10 minuti ha fatto non vedo i 10 minuti non vedo i 10 minuti non vedo i 10 minuti un po' di 10 minuti Grazie.